In zona residenziale di Bovisio, proponiamo in vendita casa indipendente su due livelli. In zona residenziale di Bovisio, proponiamo in vendita casa. In zona residenziale di Bovisio, proponiamo in vendita casa. In zona residenziale di Bovisio, proponiamo in vendita casa. In zona residenziale di Bovisio, proponiamo in vendita casa. In zona residenziale di Bovisio, proponiamo in vendita casa. in zona residenziale di Bovisio. L'immobile è composto da ingresso su ampio e accogliente soggiorno. Cucina abitabile, due camere da letto, con pavimentazione in parquet, due bagni, uno con doccia e uno con vasca, e ripostiglio. Soluzione ideale quindi per una famiglia che ha bisogno di spazi e comodità. La zona giorno e la zona notte sono ben disimpegnate. Elementi d'arredo su misura sapientemente integrati conferiscono agli ambienti un mix di eleganza e praticità. A presto. 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 L'impianto di riscaldamento è alimentato a metano e dispone di radiatori, garantendo così un'ottima distribuzione del calore in ogni angolo della casa, che si presenta in buono stato di conservazione, quindi abitabile fin da subito. Inoltre, è presente un comodo box auto doppio. Non perdere l'opportunità di acquistare questa interessante casa indipendente a Bovisio Masciago, a pochi passi dalla stazione, ma in posizione che ne garantisce la tranquillità. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.